Presidente De Castro, in che modo l'innovazione tecnologica e scientifica può rispondere alle sfide di Expo? Innanzitutto capire che oggi siamo di fronte a dei cambiamenti globali che ci impongono di mettere più attenzione alla ricerca e all'innovazione. Riuscire a rispondere a una domanda di cibo che cresce a un ritmo superiore dell'offerta ha necessità di trovare risposte nella ricerca e nell'innovazione, cioè nella capacità in sostanza di rispondere a quel grande quesito di produrre di più inquinando meno, produrre di più in maniera più sostenibile, con meno terra e con meno acqua a disposizione. E' evidente che solo la ricerca e l'innovazione potrà tentare di dare un percorso e una risposta a queste grandi sfide globali che impegnano tutti, non solo i paesi in via di sviluppo ma anche i paesi sviluppati. Se dovesse dire quali sono le due sfide principali da affrontare? Senza dubbio oggi siamo in presenza di due grandi sfide, di due grandi obiettivi per l'umanità. Uno sono i cambiamenti climatici, gli effetti che questi cambiamenti climatici danno sulla disponibilità delle risorse e da un'altra parte la sicurezza alimentare, la food security, cioè la capacità di gestire una quantità di terra data rispetto a una quantità di popolazione che ogni anno aumenta 240.000 bocche da sfamare ogni giorno e con una dieta alimentare che tende ad avvicinarsi sempre di più verso la dieta di noi occidentali che ovviamente se la trasferissimo Tucur nell'Asia e in Cina non basterebbe tre volte la disponibilità di terra di cui abbiamo. Secondo lei qual è l'innovazione scientifica o comunque le nuove metodologie di coltivazione che più ci sorprenderanno nel futuro? Tutto ciò che la ricerca oggi sta portando avanti saranno le risposte per il futuro. Basti pensare alle nuove tecniche con cui si sta pensando di produrre piante, graminacee che riescono a fissare l'azoto. Pensiamo alle milioni di tonnellate di concimi azotati che potremmo risparmiare nel mondo e che nello stesso tempo ridurrebbero l'inquinamento. Ma pensiamo anche ai straordinari progressi delle biotecnologie, penso alle biotecnologie di nuova generazione, quelle intragenetiche, la criogenesi, cioè la capacità non di trasferire geni da una pianta all'altra, ma conoscendo il patrimonio genetico di attivare determinati caratteri agendo all'interno dello stesso patrimonio genetico della pianta. Questo apre delle prospettive enormi, per esempio produrre in zone aride, automaticamente avremo a disposizione milioni di ettari prima non utilizzabili, produrre nelle zone in cui le malattie delle piante rendono ingestibile la coltivazione. Ecco, ci sono tantissimi filoni di ricerca, ma è importante capire che è arrivato il momento di un impegno globale sulla ricerca e l'innovazione. Questo è anche un po' l'obiettivo del World Food Research Innovation Forum, cioè fare ogni due anni lo stato dell'arte della ricerca e dell'innovazione nel settore della sicurezza alimentare. Presidente, quali sono le sfide principali che l'Emilia-Romagna deve affrontare nell'ambito proprio dell'agricoltura? Beh, quelle intanto di far sì che un settore che ogni tanto ha avuto segni meno abbia segni più. Io sono convinto che li avrà sia nella produzione, nella crescita, produzione di ricchezza, ma anche nei posti di lavoro. D'altra parte abbiamo scelto che nei fondi europei, tre mesi fa siamo stati la prima regione ad avere il via libera da Bruxelles per tutti i due miliardi e mezzo di fondi europei da spendere nella programmazione da qui al 2020, destinato al piano di sviluppo rurale, quindi agricoltura, agroindustria e agroalimentare, noi abbiamo messo addirittura la metà di quei fondi, cioè un miliardo 190 milioni di euro. Perché siamo convinti che puntare sull'agricoltura, puntare sulla qualità ovviamente, perché la sfida nostra competitiva è quella della qualità. Lei pensi che abbiamo 41 prodotti IGP e DOP, siamo la regione sul tetto d'Europa, non d'Italia. E siccome l'export sta volando, pensi che l'Emilia-Romagna ha superato i 50 miliardi di euro complessivi nel 2014, di cui nell'agroalimentare è la seconda voce del manifatturiero con quasi 6 miliardi di euro, puntare sulla qualità significa che dentro a quel made in Italy così cercato nel mondo, il made in Emilia-Romagna è qualcosa di molto forte. Grazie a tutti!